Sì, ad eccezione del parere negativo della Regione Veneto e della Regione Valle d'Aosta. Per il resto abbiamo approfondito quello che è già lo schema di decreto, anzi il decreto che è stato presentato dal Governo. Oggi c'è anche la notizia che in Senato sono stati ridotti il numero di vaccini obbligatori da 12 a 10. Per quanto ci riguarda abbiamo inserito una previsione in più che per noi è importante, cioè quella di estendere l'obbligo di vaccinazione agli operatori sanitari, anche perché evidentemente è una parte, diciamo così, del problema che va a affrontare ancheci. E sul fatto che appunto sono stati eliminati quelli contro il meningococco, che ne pensate? Non siamo entrati nel merito.